Siamo nella zona Mare di Pesaro, in via Romagnosi precisamente, e questo è uno dei ponticelli sul torrente Genica, come potete vedere laggiù c'è la zona della Foce, a Mare, in Gaia e Trieste, e proseguendo qui lungo la strada vediamo che il parapetto è transennato con le barriere del centro operativo, ma andando avanti il parapetto è del tutto crollato, si è staccato dalla base, vedo che ci sono qua i New Jersey per proteggere i pedoni, ma questa è una situazione di evidente pericolo, è stata segnalata anche negli ultimi giorni sui social da diversi cittadini ed è una situazione da sistemare al più presto anche perché da quell'angolo si riesce ad accedere facilmente al punto in cui c'è lo strapiombo nel vuoto ed è un salto che per un bambino eventualmente potrebbe essere molto rischioso.